Ciao amici e amiche del segno solare o lunare della bilancia, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo lunare motivazionale dal 18 ottobre al 1 novembre, dove troveremo la luna nuova in Scorpione. Vi ricordo che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente, ma soprattutto con il vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi usati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link per contattarmi e per prenotare un consulto. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Adesso siamo pronti per iniziare la vostra lettura, andiamo ad accendere la luna e vediamo cosa vogliono dirvi le vostre carte. Ricordo che a differenza degli altri oroscopi questo vi aiuterà a capire che cosa sta accadendo nella vostra vita, ma non solo magari di avere dei riscontri al vostro intuito e poi soprattutto di trovare quelle indicazioni per manifestare nella realtà i vostri desideri e i vostri obiettivi. Trattandosi di luna nuova in Scorpione, ovviamente a livello astrologico abbiamo pro e contro. A favore abbiamo ovviamente la possibilità di dare priorità a noi stessi e alle questioni personali. Il nostro intuito sarà molto forte, anche i sentimenti e le emozioni, quindi tanta tanta sensibilità e intuizione. Ci sarà l'opportunità in questo periodo di andare a rivedere delle situazioni che si stanno vivendo. Può essere favorito soprattutto lo sviluppo, la crescita personale, credere in se stessi, nelle proprie capacità, cercare di pianificare e calcolare le azioni. E secondo me una cosa molto utile per alcuni di noi sarà proprio cercare di andare a cambiare, modificare, a volte anche distruggere la vecchia vita, quindi qualcosa che non sta più funzionando per il bene futuro. Anche magari cambiare, valutare di cambiare atteggiamento. Di contro abbiamo sia la difficoltà purtroppo di riuscire a mantenere l'equilibrio, perché ci potremmo sentire deboli, con poche energie, anche tristi, malinconici, soprattutto depressi a volte. E poi i sentimenti possono sfuggire al nostro controllo, quindi avere di contro anche suscettibilità, tensione e nervosismo. E qui in questo caso bisogna fare attenzione a non prendere decisioni. O meglio non prenderle, oppure se si devono prendere meglio affrontarle con calma, senza fretta, perché il rischio di commettere errori o di andare a deteriorare delle relazioni è molto elevato. Adesso come prima carta, che può essere un tema dominante, un qualcosa che dovete assolutamente sapere prima di procedere per tutto il percorso, verso appunto la luna nuova in Scorpione, ultimo quarto di luna. Proprio perfetto per questo periodo, probabilmente qualcosa potrebbe anche accadere, qualcosa di importante nell'ultimo quarto di luna, quindi proprio verso la fine di ottobre. E cosa dice come messaggio? Che sarà necessario prendersi il tempo, riflettere per fare un cambiamento, per correggere, modificare qualcosa. Io dico qualcosa o forse atteggiamento, anche magari se avete pianificato un percorso, un progetto, ecco, è il caso di fare qualche cambiamento. Un'altra cosa importante è quella di lasciare andare la negatività, le emozioni, quelle troppo troppo forti e che possono rovinare degli aspetti di noi, di quello che stiamo facendo. E invece per altri, ecco, come dicevo sin all'inizio, sarà il caso proprio di elaborare un nuovo piano, però vi ricordo che risalta già tanto tanto fuori il fatto di rilasciare delle emozioni tossiche, invece di andare a favorire quelle che sono positive, costruttive, quelle che vanno ad incentivare le vostre passioni. Vediamo che cosa vogliono dirvi con questa carta, eclissi di luna piena. Di solito in questa posizione si parla di energie che sono in azione intorno a voi. In questo caso l'eclissi di luna piena porta con sé l'indicazione di una conclusione. È come se questa carta vi volesse avvisare che si sta per raggiungere il culmine di una situazione, e allora meglio accompagnarsi verso la fine di questa situazione, per alcuni potrebbe essere anche una relazione, insomma dipende. In alcune circostanze magari può essere utile valutare in questo periodo il perdono per andare avanti meglio e procedere oltre. In pratica c'è qualcosa che dobbiamo valutare attentamente, c'è qualcosa o qualcuno che non fa proprio al caso nostro, al nostro percorso, a quello che stiamo cercando veramente e che non ci fa stare pienamente bene, allora appunto è il caso di prendere una decisione di questo tipo. Luna piena in pesci qui è un'energia che potrebbe essere a vostro favore, effettivamente, e che parla di riuscire a trovare un equilibrio, in questo caso soprattutto tra i sogni e la concretezza e la possibile realizzazione. Cioè è giusto avere dei sogni, è giusto sperare, certo, ma le idee possono rimanere lì sospese e invece hanno bisogno di essere portate in realizzazione. Per fare questo bisogna non solo seguire il proprio intuito, ma cercare di prendere il contatto con la realtà. Magari per alcuni sarà utile lasciare andare le proprie paure, le proprie incertezze e fare attenzione, pianificare, impegnarsi, quindi di trasformare le nostre idee, i nostri sogni e portarli appunto verso la realizzazione. Lo dico giusto per informazione, è ovvio che questa informazione non è adatta a tutti, perché ricordo che questa è un'energia e sono energie generali che riguardano tutti gli ambiti della nostra vita, però ho visto che in alcune carte c'è proprio l'indicazione come significato di un possibile incontro importante, forse anche di un'anima gemella. Vediamo che cosa vogliono dirvi adesso per, come ulteriori indicazioni con l'ora con il sogno dello sciamano, dove troviamo la carta che parla di nuovi inizi. La fanciulla della luna è una carta che ci mette nelle condizioni di accompagnarci, di verso nuove idee, nuovi inizi certo, ma di spingerci verso la curiosità. Forse per alcuni di voi potrebbe essere anche il momento giusto di riuscire a mostrare un nuovo aspetto di voi, quindi qualcosa in realtà è già pronto per essere messo in pratica, come abbiamo visto, un'idea, un sogno, un desiderio, e non bisogna fare altro che accompagnarlo verso questo nuovo inizio. Bisogna assolutamente brillare di luce propria, quindi mettere in primo piano se stessi, e invece in alcune circostanze sale il caso di mettere in discussione ciò che è troppo rigido, ciò che ci blocca o anche ciò che gli altri effettivamente ritengono giusto e scontato per noi. Quindi mostrare, mostrare se stessi, mettere in primo piano noi. Il muro vale effettivamente di ostacoli. In realtà che cosa vuole dire questa carta? E' vero che potrebbero esserci degli ostacoli, gli ostacoli purtroppo fanno parte della vita, qui parla di trovarsi davanti a un muro, cioè a un blocco temporaneo, a un ostacolo, che però il messaggio è proprio quello di non combattere, di non stare ad insistere, ma invece rallentare, fermarsi e riflettere. Vuol dire che quel muro, quell'ostacolo, arriva in un certo senso a farci capire ciò di cui abbiamo veramente bisogno, e che quindi un obiettivo, un qualcosa effettivamente ha bisogno di tempo per manifestarsi, e dobbiamo avere pazienza, pian pianino, pian pianino, portarlo avanti. Potrebbe essere un'altra circostanza, qualcosa della vostra vita, potrebbe anche riferirsi a quel nuovo inizio di cui parlavamo. L'importante magari è cominciare qualcosa, però senza aver fretta che quella cosa vada a realizzarsi nell'immediato, ma pian pianino, pian pianino, procedere. Oppure, come vi dicevo, può rappresentare un altro ambito della vostra vita, e allora meglio fermarsi, meglio valutare. Quindi è come se ci fosse un'interruzione da qualcuno, dall'assù, che ci vuole aiutare a comprendere meglio qualcosa. La ladra dei sogni parla del rifiuto della vocazione. E il rifiuto della vocazione è un po' come puntare il ditino, purtroppo, su rimanere un po' troppo fermi sulle proprie idee, oppure rimanere fermi nella nostra zona di comfort, il passato, il rifiuto, rimanere ad osservare un dolore o un qualcosa che non sta funzionando. Ecco, quindi valutiamo effettivamente che cosa stiamo rifiutando, su che cosa ci stiamo adagiando, e di andare oltre, magari, se si tratta di dolore, oltre le ferite, perché noi siamo più di quello che crediamo, e quindi possiamo riuscire assolutamente a superare le nostre barriere. Grazie per l'ascolto, se volete qui in alto a destra, trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oscopo mensile, quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!